Hai mai letto a scuola quel dramma di Calderon che si chiama La vita è solo? Se questo è un sogno, non serve ad altro tuttavia che a rendere più reale la realtà. Per pietà, fammi andare via di qua, fammi tornare da dove sono venuta. Il grande spirito della borghesia si diverte. Perché nessuno verrà mai a liberarti. Per piacere aiutami tutti, pago lo stesso. Di tutti i sogni che tu hai fatto o che farai, si può dire che potrebbero essere anche realtà. Non ho fatto nessuno di questi sogni, ne ho fatto un altro, un nuovo. Uno spagnolo in punto di morte può dire che la mia vita è stata una vera vita. Cosa hai voluto dire con questo Calderon? Calderon? Che la mia vita è stata una vera vita. Grazie a tutti.